Magistrati e avvocati si sono ritrovati a Brindisi nella sala dell'autorità portuale per discutere sulla riforma dell'ordinamento giudiziario. Il tutto su iniziativa della Fondazione dell'Avvocatura della provincia di Brindisi, dell'Ordine degli Avvocati e con la collaborazione della Camera Penale. Un appuntamento che ha fatto registrare tante presenze importanti, a partire dal Vice Ministro della Giustizia Francesco Paolo Sisto, in collegamento video, da Gen Antonio Chiarelli e Maurizio Carbone, entrambi i componenti togati del Consiglio Superiore della Magistratura, dal Segretario Nazionale dell'Unione delle Camere Penali Rinaldo Romanelli e dal docente universitario Vincenzo Farina. Il tutto in aggiunta a una platea decisamente qualificata che mostra sempre particolare interesse per un contesto di riforme che bisogna ancora adottare in maniera compiuta e peraltro anche in tempi estremamente brevi. È evidente, così come è stato sottolineato nel corso degli interventi, che magistrati e avvocati devono trovare punti di intesa perché si possa mantenere l'autonomia delle singole professioni, ben lontano da interpretazioni estremiste che tendono a mettere sotto accusa l'operato dei magistrati. Tutto questo non potrà che rendere la giustizia italiana più efficiente e quindi più vicina alle aspettative dei cittadini. È chiaro in ogni caso che il confronto dovrà essere allargato alla politica, in quanto dovrà essere proprio il governo ad adottare disposizioni finalizzate alla trasparenza e all'efficienza dell'ordinamento giudiziario. Il dibattito è stato moderato dal magistrato Valeria Farina Valauri nella sua veste di segretario del Consiglio Superiore della Magistratura.